Musica Una regione per fare insieme torna all'appuntamento settimanale con il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Onorevole Maria Abruzzese. Salve Presidente. Buonasera a tutti. Allora cominciamo subito, facciamo un piccolo passo indietro Presidente, andiamo a parlare del risultato, dei ballottaggi, tre risultati diversi tra loro, una sconfitta abbastanza cosciente soprattutto per Levi nella sua città quella di Cassino, una vittoria che invece penso la inorgoglisca perché quella di Ernesto Dersigni è stata anche una sua vittoria e poi ad Alatri la vittoria di Morini e la sconfitta del PDL che diciamo governava da diversi anni nella città ernica. Allora ci fa un piccolo bilancio? Il bilancio non può essere fatto guardando solo il contesto della nostra provincia, queste sconfitte devono essere inserite in un contesto più generale, più nazionale. Abbiamo incrociato un momento negativo della nostra politica, la nostra politica del centrodestra a livello nazionale tant'è che nei ballottaggi centrodestra non ne ha vinto neanche uno. Quindi abbiamo perso a Milano, a Napoli, abbiamo perso in altri comuni importanti e quindi abbiamo perso anche a Cassino e a Latri, mentre abbiamo vinto a Sora e a Terracina. Quindi un risultato diciamo abbastanza negativo anche se nel contesto regionale Frosinone e Latina sono le province che hanno retto meglio l'urto del vento negativo che soffiava e soffia sul partito del Popolo della Libertà. Chiaro questo dato va analizzato e va anche inquadrato nel contesto provinciale e regionale, forse non abbiamo dato le risposte giuste che la gente aspettava e soprattutto a livello regionale noi siamo stati costretti ad adottare degli atti impopolari però importanti per ridare una speranza al nostro territorio. Mi riferisco in modo particolare alla sanità, quindi la giunta Polverini ha dovuto in qualche modo assumere questi atti, questi atti forti, la chiusura degli ospedali per creare le condizioni di un rientro del debito sanitario regionale. E queste cose pesano sul risultato elettorale, ecco perché alla fine è venuto fuori anche un risultato negativo, un risultato negativo su Cassino, un risultato negativo sul comune di Alatri, ma un risultato positivo da intestare anche al Popolo della Libertà, da intestare anche al sottoscritto. Io dico Sora ma dico anche Ceprano, anche Ceprano abbiamo avuto un risultato straordinario, quindi abbiamo conquistato, abbiamo perso due comuni a guida di centrodestra e ne abbiamo conquistati due a guida di centrosinistra. Allora andiamo ancora per gradi, qualcuno diceva dopo queste elezioni fanno riunire il PDL, il PDL Ciociaro a Roma, c'è la possibilità che il partito venga commissariato, niente di tutto ciò, c'è stata questa riunione a Roma, Roma e Fiorito hanno parlato con Piso e Pallone, Qual è la ricetta del PDL Ciociaro per riconquistare la fiducia persa? Anche lei ha parlato di un calo di fiducia da parte dei cittadini nel PDL, soprattutto alla vista di un appuntamento importante che è quello delle prossime amministrative con un comune decisamente importante come il comune capoluogo di Frosinone. Io penso una cosa molto semplice, la gente si aspetta dal popolo della libertà, dal partito del fare, dal partito di affrontare i problemi reali del territorio, si aspetta un'azione politica seria nell'interesse del territorio, nell'interesse dell'impresa, nell'interesse di una pianificazione dell'azione politica dello sviluppo. Noi forse abbiamo perso di vista questi obiettivi, li abbiamo persi di vista e il popolo in qualche modo se ne è accorto e ci ha punito facendoci capire che dobbiamo riportare sulla retta via le impostazioni che il popolo della libertà, che il nostro presidente Silvio Berlusconi aveva tracciato negli anni precedenti. Quindi dobbiamo risintonizzarci sugli interessi reali della nostra gente, sugli interessi reali del nostro territorio, sugli interessi reali della nostra provincia e della nostra regione. È chiaro che le imprese non riescono a svincolarsi dalla burocrazia e quindi dobbiamo cercare di capire come affrontare e risolvere immediatamente questi problemi. A livello provinciale abbiamo l'obbligo di individuare un progetto di sviluppo per ridisegnare tutte le infrastrutture nella nostra provincia di Frosinone per dare una speranza seria ai nostri giovani che non trovano un posto di lavoro in questa provincia. Abbiamo anche il dovere di portare avanti delle riforme importanti, perché poi alla fine chiudere e ritornare sempre sulla sanità, chiudere gli ospedali e poi non garantire l'efficienza del servizio sanitario, significa incassare una doppia sconfitta. La prima sconfitta perché la gente non capisce l'importanza del rientro del debito sanitario, la seconda sconfitta perché la gente non capisce e non accetta soprattutto l'erogazione di un servizio di qualità. Quindi una politica che deve ritornare a parlare degli interessi della gente, una politica che non deve in nessun modo portare ad uno scontro continuo in questa provincia, uno scontro continuo in questa regione, anche perché non è bello parlare solo di politica, scontrarsi solo su un candidato o su un interesse di bottega senza curarsi gli interessi reali del territorio, della gente che non riesce neanche a arrivare a fine mese con il proprio stipendio. Quindi o noi capiamo che... ma questo è un appello rivolto a tutta la politica, non solo a Popola Libertà, perché anche il Partito Democratico ha avuto nella nostra provincia una sonora sconfitta, addirittura un partito che ha il 2% a sole, il 4% a cassino, quindi un partito che quasi non esiste più e anche gli altri partiti devono capire e dobbiamo capire tutti che la politica è un servizio, è uno spirito di servizio che deve essere messo a disposizione dei territori, deve essere messo a disposizione dei cittadini. Ormai il principio dell'alternanza diventa sempre più forte e più pregnante, non esistono più rendite di posizioni, esistono soprattutto una politica seria, una politica sana, una politica igienicamente valida che va esclusivamente negli interessi della popolazione. Nel mezzo c'è stato il pasticcio PDL Polverini. Proprio a tal proposito è stata presentata una mozione di sfiducia da parte di 27 membri in Consiglio del Centrosinistra, mozione di sfiducia che è stata votata ieri e respinta largamente anche direi dal Consiglio regionale. Andiamo a vedere il servizio e poi ne parliamo con il Presidente Abruzzesi. Respinta dal Consiglio regionale del Lazio la mozione di sfiducia è presentata da 27 consiglieri d'opposizione nei confronti della Presidente della Regione Renata Polverini. La mozione arrivò all'indomani delle dichiarazioni della stessa Presidente al passaggio di due consiglieri regionali dalla lista Polverini al PDL. Per l'opposizione era necessario avviare immediatamente la verifica della stabilità del centrodestra in Regione, un atto dovuto insomma. In aula oggi 66 consiglieri su 70 hanno espresso la propria volontà, 42 consiglieri hanno votato contro la sfiducia, 26 a favore. L'opposizione in Consiglio non ha trovato il voto di Peduzzi, almeno per raggiungere 27, il numero degli stessi firmatari della mozione e nemmeno quelli di Celli, lista civica e MEI per Alleanza per l'Italia. Era la prima volta che veniva presentata nel Lazio una mozione di sfiducia nei confronti del Governatore. In apertura di seduta il Presidente del Consiglio, Mario Abruzzese, ha fatto osservare un minuto di silenzio per ricordare il tenente colonnello Cristiano Congiu, ucciso in Afghanistan venerdì scorso.